Fede e folklore è stato tutto questo, ieri la festa in onore dei Santi Martiri, Alfio figlia del Fieccirino, da sempre molto sentita e partecipata ad Adrano. Dopo il triduo di preparazione, ieri il giorno della festa è iniziata la mattina con le sante messe e poi la benedizione dei caretti siciliani che hanno percorso alcune vie di Adrano, con loro gli sbandieratori dell'errione vecchia matrice di Motta Sant'Anastasia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il clou delle celebrazioni nel pomeriggio con la processione del fercolo dei tre Santi Martiri. La processione si è snodata dalle 16 toccando molti quartieri adraniti con il fercolo accolto da un clima di grande festa. La processione si è conclusa dopo le 21 con la benedizione dei fedeli con la reliquia dei Santi Martiri. A conclusione, gli immancabili fuochi pirotecnici. Grazie a tutti. Grazie a tutti!